Ogni tempo che è passato è certo, è certo, incerto è sempre il prossimo tempo, il tempo a venire, ogni prossimo tempo è sempre incerto, sempre incerto, il tempo è incerto e questo è ovvio, e questo è ovvio, e ovvia è l'incertezza, infatti progredendo anche l'orologio ha progredito, è andato avanti per gradi, per tratti, per tacche, rendendole più esatte, così che sempre più è esatta l'incertezza, implacabile, non più analogica, ovvero tentennante, come un umano che dicesse con la testa sempre no, ma digitale, elettronica, enormemente passatista, infatti l'ambizione è questa, far regredire la misura fino a scandire la misura prima, l'attimo, per attimo intendendo l'attimo iniziale, il tempo della nascita del cosmo, quella tacca, quella tacca lì, e anche questo è ovvio, il tempo è nel passato, il futuro non è che un'incertezza, ovvio anche questo, perché? Perché tutto questo ovvio? È la domanda, perché l'incertezza l'ama, brama l'ovvio, amerebbe congiungersi con esso, a esso arrendersi, però lo teme molto, lo sappiamo, e allora preferiamo vacillare, fare i pendolari col cervello, guardare l'analogica pendola oscillare, oppure sul display i numeri che appaiono per finta, e tutto questo per sfuggire l'ovvio. Infatti quando esclamativi diciamo, ma questo è ovvio, lo diciamo per dire, questo lo evitiamo, in certi casi con atterrimento, perché? Perché l'ovvio è il per sempre, e del per sempre, come strana la creatura umana, accogliamo soltanto l'aspetto nostalgico, questo fosse pure per poco, io starei con te per sempre, e questa è nostalgia, ma che stranezza, e allora restiamo più nell'incertezza, che dentro un per sempre. Sappiamo, sappiamo cosa accade nella mente, nella mente accade l'ovvio, ossia il per sempre, ma noi lo confutiamo con l'altra ovvietà, l'unica che accogliamo, l'incertezza, le cose le sappiamo, ma nella mente noi le frammentiamo incertamente, però, però, negli intervalli tra un tic e un tac, negli intervalli là facciamo cose, e ne sappiamo anche, le nostre cose che nessuno sa, e sono cose che non stanno al mondo, ma stanno nel per sempre, nel mentre tutto il mondo fa tic tac, tic tac, tic tac, ossia fa il mondo incerto. Grazie a tutti.